Cominciano oggi per gli studenti italiani gli esami di maturità con la prima prova scritta. Per tutti gli indirizzi la prova di oggi sarà quella di italiano. Ecco le tracce che il Ministero ha proposto ai maturandi. L'autore Italo Calvino con il suo primo romanzo Il sentiero dei nidi di ragno per l'analisi del testo. Per il saggio storico si è scelto l'argomento della resistenza con un brano di Dardano Ferulli. Per il tema di argomento generale si è proposta una frase del premio Nobel per la pace Malala Yousafzai. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. Poi ci sono i quattro temi sul saggio o articolo di giornale che variano a seconda dell'indirizzo di studio. Per l'ambito artistico letterario una riflessione sulla letteratura come esperienza di vita. Per quello scientifico riguarda lo sviluppo tecnologico dell'informatica che ha cambiato il modo di vedere il mondo. Per quello storico il Mediterraneo specchio di civiltà. Ed infine per quello economico le sfide del ventunesimo secolo e le competenze del cittadino. Novità dell'era di internet l'invito rivolto agli studenti da parte del Presidente del Consiglio Matteo Renzi a commentare le tracce su Twitter su hashtag Maturità2015.